goodman mi scrive ciao alessandro una tecnica per memorizzare domande e risposte beh come dico sempre memorizzare domande risposte spesso non è un metodo di studio non è qualcosa che consiglio tuttavia qualche volta può tornare utile specialmente con domande prettamente tecniche come fare una semplice tecnica di memoria il link method individuo un paio di parole chiave nella domanda un paio nella risposta corretta e poi le associo facendo una storia tra queste varie parole chiave e visualizzandone i vari elementi una tecnica semplice naturalmente per tecniche più avanzate c'è mnemonica il mio video corso col campione del mondo di memoria e il più grande mnemonista in circolazione neanche a farlo apposta questa settimana un sacco di domande sulle tecniche di memoria sarà perché è uscito mnemonica il mio nuovo corso insieme al campione del mondo e a vanni de luca vorrei sapere come studiare e ripetere una poesia durante l'interrogazione di italiano il maestro delle poesie e vanni de luca quindi vi invito ad andare a seguire i suoi canali social ma quello che si fa è con una tecnica di memoria e spesso anche con il palazzo della memoria individuare singole parole veramente importanti che ci riescono a far ricostruire il flusso della poesia spesso anche le rime e le si visualizza tra di loro creando delle associazioni creando delle storie ci si aiuta con gli elementi ricorrenti e si crea nel corso del tempo un pochettino di abitudine alla ripetizione del verso per ripetere però una poesia in maniera fluida è necessaria anche la buona vecchia ripetizione ad alta voce declamando non se ne può fare a meno micchi mi chiede dopo lo schema a cascata che devo fare e questa è proprio una bella domanda generalmente dopo la fase di schematizzazione in cui si fa appunto uno schema che può essere uno schema lineare a cascata una mappa concettuale una mappa mentale la parte subito dopo è la fase di testing in cui ci mettiamo alla prova con delle domande delle risposte delle flashcards o comunque dei quiz e delle simulazioni sul contenuto dello schema stesso ci assicuriamo in altre parole di aver veramente incamerato il contenuto e non lo facciamo rileggendo ma interrogandoci auto interrogandoci su quegli argomenti per recuperare l'intero contenuto informativo questo è il modo migliore per consolidare le informazioni molto meglio che rileggere semplicemente lo schema odri mi chiede le tecniche di memoria sono adatte ad imparare vocaboli astratti di una lingua straniera la risposta è assolutamente sì qual è la differenza tra un vocabolo astratto e uno concreto il tipo di visualizzazione che utilizzeremo per un vocabolo concreto come telecomando per esempio ci basterà immaginare un telecomando e associarlo alla parola straniera con una storia mentre invece per un vocabolo astratto come per esempio emozione dovremo trovare un simbolo di quella parola per emozione magari posso immaginarmi una coppia che si tiene per mano ecco cercheremo un simbolo di quella parola astratta e lo useremo nella nostra visualizzazione angela mi scrive cercavo un video sulla noce moscata allucinogena perché sei uscito tu e qui non ho saputo resistere dal mettervi questa stupidaggine scusatemi ma volevo raccontare anche a instagram e a facebook un'altra volta quello che sta succedendo in modo incredibile sui miei social e in particolare su youtube che sta crescendo in maniera pazzesca grazie a un vecchio video sulle allucinazioni senza droghe che improvvisamente è andato virale su youtube e mi sta facendo scoppiare il canale allora ho voluto farci una battuta anche sotto forma di pillola voi andate a vedere sul canale youtube come siete messi se non avete ancora la vostra iscrizione su youtube mettetela e se siete già su youtube nel dubbio un mi piace merck mi chiede come fai a scegliere i libri da leggere vai in libreria e passi ore a cercare quello che ti sembra più interessante o ti fai consigliare da qualcuno la risposta è che faccio entrambe le cose anzi aggiungerei anche una terza opzione vado in libreria ovviamente mi faccio prendere e indago e vado a spulciare tagli ai scaffali dopodiché cosa faccio vado anche a spulciare le recensioni online dei vari libri e tengo d'occhio delle parole chiave specifiche che mi interessano come apprendimento studio cognizione produttività google con quelle parole chiave e cerco se è uscito qualcosa di nuovo e infine seguo molti influencer di settore podcaster youtuber eccetera che consigliano magari dei libri interessanti che hanno letto o ospitano degli autori e vado a cercare fatemi sapere qui sotto qual è invece la vostra strategia per trovare libri interessanti da leggere luca mi chiede quali app consiglieresti per costruire un master plan sullo smartphone il master plan lo sapete è quella tabella settimanale di organizzazione che consiglio sempre e questo è un tasto dolente perché non ho ancora individuato un app su smartphone che faccia veramente tutto quello che serve a un vero master plan quello che faccio io è usare google calendar semplicemente per segnarmi tutti gli appuntamenti gli impegni che ho e poi travasarli nel mio master plan costruito con microsoft excel che io amo alla follia e che ho sincronizzato su tutti i dispositivi perché c'è l'app di excel ovviamente anche per android e per ios quindi il mio consiglio per il momento usare questa combinazione excel più google calendar ma se avete degli altri consigli e delle altre app da sperimentare magari mettetele qui sotto e per ios e per ios